Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando soprattutto di lavoro perché i lavoratori dello stabilimento Riello di Villanova di Cepagatti hanno manifestato questa mattina davanti alla sede regionale di via Passo Lanciano a Pescara. L'azienda infatti ha deciso di delocalizzare la produzione in Polonia e ora 90 persone rischiano il posto di lavoro. Giuseppe Dintino. Nemmeno 19 milioni di euro di utili bastano alla multinazionale USA Career Corp che dal 2017 controlla il gruppo Riello. L'azienda infatti, benché il bilancio è positivo, ha deciso di chiudere lo stabilimento di Villanova di Cepagatti delocalizzando la produzione in Polonia. Questa è l'ennesima azienda che fugge dove il visco è più vantaggioso e ora 90 lavoratori rischiano il posto. Ci hanno levato anche la dignità perché adesso lavoriamo, però lavoriamo come? Cioè fino al 15 di novembre stare lì, cioè come si lavora? Cioè lei che farebbe al posto mio? Cioè si lavora male, ha sinchiozzo, cioè non è giusto per noi perché abbiamo una dignità e noi se andiamo lì a lavorare dobbiamo rendere. Lavoratori in presidio oggi davanti alla regione dove alcuni rappresentanti sono stati ricevuti dall'assessore regionale al lavoro Pietro Quaresimale. Nel 2020 l'Ariello, brand della climatizzazione, ha subito un calo dei ricavi e dei profitti ma con utili netti di 18,8 milioni e una società più che patrimonializzata di certo non si può parlare di crisi aziendale. Io non capisco, con un fatturato oltre le aspettative, che abbiamo superato anche l'azienda del nord cioè non capisco perché così di punti in bianco dopo le ferie, arrivati al primo settembre a ciel sereno, cioè ci hanno detto che ci licenza. Lei da quanto tempo è indipendente dell'Ariello? Io sono 26 anni. E la Sevel, azienda del gruppo Stellantis, ridurrà i turni dal prossimo lunedì 27 settembre da 18 a 15 a causa della carenza di semiconduttori, nello specifico un chip nella centralina ABS Bosch fornita dallo stabilimento malese. Lo renderò noto la FIM CISL che parla di contraccolpo occupazionale per 900 lavoratori che verrà compensato con l'interruzione dell'attività di trasferta di circa 600 cassi integrati provenienti dagli altri stabilimenti del gruppo e con l'interruzione del rapporto di somministrazione di circa 300 lavoratori degli attuali 750 presenti in azienda. La situazione, afferma il segretario nazionale Ferdinando Ugliano, sta precipitando. Nei giorni scorsi, dice, abbiamo sollecitato la convocazione del tavolo Stellantis al Ministero per lo Sviluppo Economico. Crediamo che la situazione del gruppo debba essere presa in carico dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Nel frattempo, insieme alle altre organizzazioni sindacali, stiamo decidendo le iniziative di protesta da mettere in campo. Cambio ai vertici dei Carabinieri di Pescara. Il colonnello Barbera è il nuovo comandante provinciale. Il capitano Dallari è la nuova comandante della Compagnia di Pescara. E' il colonnello Riccardo Barbera, il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Pescara. 45enne, viene da Aprilia e sostituisce Edoardo Gambardella, che assumerà un incarico nella DIA. E' una città, una provincia che conoscevo poco, ma sto imparando man mano ad apprezzare. E il nostro compito è proprio preservarla. Preservare questa città e questa provincia da qualsiasi tipo di infiltrazione criminale. E' una città, è un territorio molto vivo, economicamente in grande evoluzione. Quindi noi dobbiamo fare attenzione e noi dobbiamo garantire alla società civile il rispetto delle regole. Quindi noi dobbiamo mettere la società civile nelle condizioni di evolversi e di crescere. E quindi noi dobbiamo comunque andare a fermare queste infiltrazioni che in ogni territorio così ricco sono sempre più preoccupanti. Negli ultimi 21 anni io ho avuto incarichi esclusivamente in comandi territoriali, per lo più incarichi al comando di riparti investigativi. Quindi ho fatto brevemente Bari, ho fatto Palermo, sono stato a Cosenza e cercherò di portare la mia esperienza al servizio di questa città, di questa provincia, di questa comunità. Presentata anche il capitano Monica Dallari, 33enne romana, che dopo l'esperienza nella provincia di Arezzo è ora il nuovo comandante della compagnia di Pescara. E le fiamme non danno tregua al Parco Nazionale della Maiella, interessato ormai da tre giorni da un vasto incendio che si è sviluppato nel versante pescarese tra i comuni di Letto, Manopello e Serra Monacesca, al di sotto di Passo Lanciano. Al momento nell'area sono in azione due elicotteri e due Canadair a complicare le operazioni di spegnimento, però è il forte evento delle ultime ore. Nella zona sono impegnati i vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara, la protezione civile e i carabinieri forestali del reparto Parco, con il supporto dell'esercito che sta liberando la viabilità preesistente per favorire le operazioni di spegnimento. Le fiamme interessano una zona che si estende su alcune decine di ettari tra area naturale, Pascoli e Pineta. L'incendio era divampato domenica scorsa, inizialmente era stato domato, ma poi a causa proprio del vento e delle condizioni climatiche le fiamme hanno ripreso vigore. Cambiamo argomento adesso, viaggio tra i candidati sindaco alle prossime elezioni amministrative del 3-4 ottobre. Noi andiamo a Sulmona oggi, dove l'avvocato Elisabetta Bianchi si presenta con la lista di direzione Sulmona. Il tema dei tribunali minori è quello di capitale del nuovo umanesimo, le sfide che intende proporre al suo elettorato. Ho trovato in questa occasione delle amministrative 2021 i partiti di centrodestra, area mia di riferimento, essendo io consigliere di Fratelli d'Italia, un po' impaludati in strane liturgie che erano incomprensibili alla cittadinanza, che aveva invece l'esigenza di uscire al più presto dall'amministrazione Casini con una proposta attiva, credibile ed efficace. Per cui nel maggio di quest'anno ho deciso di proporre la mia candidatura al corpo elettorale, essendo il consigliere comunale più produttivo del Consiglio e non avendo nulla da rimproverarmi nella mia storia civica rispetto alla cittadinanza e al mantenimento dei presidi di sanità e giustizia, ho deciso quindi di propormi alla cittadinanza, visto che gran parte delle componenti di centrodestra erano state escluse dalla discussione preliminare rispetto alla selezione del candidato sindaco. In ragione di questo abbiamo determinato di partire prima e di proporre la nostra candidatura come direzione sul Mona. Diciamo che io non ho mai fatto una questione di dimensione, per me i tribunali non sono mai piccoli, i tribunali sono il luogo dell'esercizio della giurisdizione e come tali sono grandi di per sé perché rappresentano una funzione dello Stato e per questo noi riteniamo che questo ufficio giudiziario debba rimanere insieme alla Procura della Repubblica innanzitutto perché non tutti i comuni sono città e se sul Mona è deve rimanere una città e anche perché ha le insegne dello Stato. E noi faremo di tutto per preservare questo presidio, in quanto che fin quando la digitalizzazione non sarà al 2000 per 1000, come dico sempre, ci sarà sempre un senso per avere ancora nel territorio questi luoghi fisici. Non solo noi vogliamo attraverso il nostro lavoro far conseguire a Sul Mona un titolo innovativo, ci piacerebbe che Sul Mona diventasse capitale del nuovo umanesimo. Nell'era digitale credo che la grande sfida da cogliere sia quella di temperare la digitalizzazione nell'interesse dell'essere umano affinché l'uomo non sia schiacciato dai sistemi ma ne vengano altresì invece esaltate le potenzialità e le abilità. Torniamo a Pescara adesso, il Festival D'Annunziano è andato in scena tra il 3 e il 12 settembre, è terminato e ora è tempo di bilanci. Parte del ricavato sarà destinato alla ricostituzione della pineta d'Annunziana. Volge al termine la terza edizione della Festa della Rivoluzione, anche quest'anno Pescara ha celebrato Gabriele D'Annunzio che volente o nolente rimane uno dei suoi cittadini più illustri. Numerosi gli ospiti del Festival, da Giordano Bruno Guerri a Jacopo Fo, da Francesco De Gregori ad Edoardo Bennato. La terza edizione del Festival D'Annunziano, penso possiamo dire, è l'obiettivo più importante che ha colto e quello di una grande partecipazione ricaduta all'immagine ed economica per la città di Pescara e per l'Abruzzo e il riconoscimento che D'Annunzio è un patrimonio universale di tutti, comunque la si pensi. Per la realizzazione del Festival il Comune ha investito 75 mila euro. A questi si aggiungono 150 mila euro degli sponsor e altrettanti della Regione, di cui 60 mila sono stati impiegati solo per il service e l'attuazione delle misure anti-Covid. Parte del ricavato, circa 60 mila euro, saranno destinati alla ricostituzione della pineta devastata dall'incendio del primo agosto. Intanto ringraziamo tutti coloro che hanno ritenuto dover fare un versamento liberale per la pineta, perché la pineta è il vero patrimonio di tutti i pescaresi e non soltanto. È un unicum perché una riserva naturale inserita in un contesto cittadino non si rinviene in nessun'altra parte d'Italia. Purtroppo ha subito questa devastazione. Noi vogliamo, come tutti quanti auspicano, rivedere la nostra pineta più bella che mai. Poi questa partecipazione di cittadini alla rinascita della pineta è un gesto quasi commovente, quindi veramente il Festival D'Annunziano legato a queste contribuzioni liberali di cittadini che vogliono partecipare alla rinascita di un pezzo importante della città dal punto di vista ambientale è veramente una cosa molto positiva per la città. Pescara così si propone come città della cultura e ora D'Annunzio, dice il sindaco, mette tutti d'accordo. Sì, ma veramente quell'ostracismo che D'Annunzio ha subito è stato uno ostracismo vergognoso. Oggi sta riemergendo questa figura polietrica incredibile, forse il personaggio più importante del secolo in cui è vissuto. Noi abbiamo soltanto rimesso in evidenza quello che è senza neanche fare tanto sforzo, perché è D'Annunzio e D'Annunzio. Marina Dolci è stata eletta presidente di Confesercenti Pescara. Si tratta della prima donna al vertice di un'associazione di categoria proprio nella città di Pescara. Paolo Renzetti. Una donna al vertice di Confesercenti Pescara, neopresidente Marina Dolci, una vita nel commercio. Sì, una vita nel commercio, sono contenta di avere avuto questa nomina. Sono tanti anni di lavoro anche nelle associazioni, sono sempre stata all'interno sia di Confesercenti ma anche delle associazioni al femminile, quindi ci tengo, veramente è stata una bella cosa poter portare questa nomina in alto, sono contenta. Una nomina di prestigio ma anche un compito gravoso in questo momento storico per il commercio. È un compito gravoso ma che mi spinge e mi sprona, non solo per il commercio ma proprio per tutte le nostre attività produttive. Confesercenti spazia su tanti campi e il mio primo impegno sarà proprio contattare i vari presidenti, faremo una bella presidenza pronta a muoversi ed essere sempre pronta con nuovi progetti. Quali sono le priorità secondo lei per far ripartire a 360 gradi il commercio a Pescara? Sicuramente sarà importante riunire e spronare tutti noi, tutti i vari esercenti, nuovi progetti, essere sempre pronti con il web e poi seguire anche la nostra città perché noi dobbiamo amare le nostre città e la nostra provincia e quindi collaborare con le amministrazioni. Un discorso a parte poi merita il centro commerciale naturale di Pescara che è il fulcro proprio delle attività della città? È importante, bisogna valorizzarlo. Lì dobbiamo essere uniti anche a parte il segno politico delle associazioni. Tutti uniti anche con il food, con degli eventi, con le attività commerciali. Le nostre città saranno belle e accoglienti pensando anche a Natale che sta per arrivare. L'Università degli Studi di Teramo offre nuove possibilità formative agli studenti universitari e consulenti del lavoro. Operativi da oggi quattro laboratori didattici aperti agli iscritti, ai corsi di laurea in servizi giuridici ed economia, ma anche a coloro che già esercitano la professione di consulente del lavoro. Tania Bonnici Castelli. Quattro laboratori didattici per la formazione di consulenti del lavoro e la nuova, moderna e specifica offerta formativa presentata dall'Università degli Studi di Teramo. I laboratori sono indirizzati primariamente agli studenti iscritti al corso di laurea in servizi giuridici, ma sono anche aperti come attività formativa scelta a tutti gli studenti dell'Università di Teramo interessati a lavorare nella gestione del personale e nel settore della mediazione, domanda e offerta di lavoro, con particolare riferimento agli iscritti al corso di laurea in economia. Infine i laboratori sono aperti a coloro che già esercitano la professione di consulente del lavoro. Una nuova offerta da parte della Facoltà di giurisprudenza? Sì, in particolare di uno dei corsi di laurea di giurisprudenza, quello minore diciamo perché è la laurea triennale che quindi ha un pubblico, una platea particolare, diversa da quella della grande laurea in giurisprudenza che consente l'accesso alle professioni legali, alla magistratura eccetera. E però è un percorso triennale che noi da due anni, soprattutto da quando abbiamo fatto un'importante riforma dell'offerta didattica, stiamo cercando di valorizzare al massimo per non farla essere come un po' è stata vissuta per i primi anni della sua istituzione come la Cenerentola, della Facoltà di giurisprudenza, ma invece come un corso che ha le sue specificità. In particolare questo corso ha tre curriculum, i laboratori che presentiamo oggi fanno parte del curriculum consulenti del lavoro e sono un po' un fiore all'occhiello perché sono dei laboratori che rappresentano un'offerta didattica molto professionalizzante, molto calata nella professione e sono organizzati in partnership con i tre, si dice in inglese stakeholder oggi, questa è la terminologia in valsa, con gli attori, gli interlocutori privilegiati della professione, coloro che sono la professione in questo paese e quindi sono questa partnership importantissima perché serve a far sì che il corso possa effettivamente svolgere la funzione che gli è propria, cioè quella di formare questa professionalità che non può essere formata dal corso di laurea in giurisprudenza, quello nobile tra virgolette, quindi questa è una professionalità particolare che noi cerchiamo quindi di valorizzare in questo modo. Di corsi di laurea del genere ce ne sono diversi in Italia, ce ne sono parecchi anche in quest'area geografica, però il nostro con questa partnership si qualifica particolarmente oltre allo sforzo che già viene fatto in termini di docenti dedicati, un'offerta didattica molto interessante, ma questo tipo di contenuti sono particolarmente diciamo rivolti allo scopo particolare del corso. Accoglienza e strumenti di inclusione per le categorie a rischio, povertà sempre più numerose specie a causa della pandemia. Presentato ad Avezzano Fratelli Tutti, il progetto che vede Caritas e Comune di Avezzano collaborare per dare sostegno concreto a chi è in difficoltà. Presentato il progetto Fratelli Tutti, l'iniziativa nata dalla collaborazione tra Caritas e Comune di Avezzano mirata al contrasto della povertà estrema, il progetto mira l'accoglienza dei senza fissa dimora nella Casa Fratelli Tutti inaugurata in Via Genova a pochi passi dalla parrocchia di San Giovanni a maggio scorso. Il nome Casa Fratelli Tutti riprende il titolo dell'enciclica di Papa Francesco e mira ad offrire accoglienza ma anche strumenti di inclusione e reinserimento sociale per una categoria di bisognosi messi a nudo dai mesi della pandemia. La Casa Fratelli Tutti è nata da un progetto del cuore, un progetto del cuore che aveva bisogno ovviamente di essere strutturato. In questi anni non è mai mancata da parte della diocese della Caritas la fraternità con le persone più fragili, con le persone di fragilità estrema, con i senza tetto, attraverso segni concreti di accoglienza. Inizierà nel mese d'ottobre ovviamente con il nuovo servizio pastorale del Vescovo Giovanni e quindi è direi il Vescovo uscente che consegnerà questa dimensione, questa struttura al Vescovo Giovanni che certamente lo porterà avanti con dedizione. È un progetto importante perché ogni amministrazione ha l'obbligo, il dovere di andare in soccorso ai senza tetti, a coloro che non hanno una dimora e che si trovano in difficoltà magari per il freddo o per qualsiasi tipo di evenienza. In questa occasione però non si tratta di un'azione, mera azione di soccorso, un soccorso così doveroso, ma in realtà è un'attività tramite questa confezione affinché la casa di accoglienza che è stata costruita dalla diocesi possa essere il punto focale su cui esprimere non solo un atto doveroso, un atto dovuto, ma soprattutto un atto di sentimento, il sentimento nel rispettare la persona, soprattutto rispettare la propria dignità. Si svolgerà a Teramo dal 17 al 19 settembre la prima fiera mercato del benessere. Si tratta dell'evento iniziale previsto dalla legge regionale denominata Abruzzo, regione del benessere che punta a diffondere i temi dell'educazione ambientale, della corretta alimentazione e delle tradizioni locali. La prima vera attuazione della legge regionale denominata Abruzzo, regione del benessere, si concretizza a Teramo con una tre giorni dedicata all'alimentazione dal punto di vista della salute. In programma da venerdì 17 a domenica 19 settembre l'evento si svolgerà nella splendida cornice del corso di Porta Romana nel centro storico della città di Teramo. Primo firmatario della legge regionale l'assessore Pietro Quaresimale. L'obiettivo è quello di caratterizzare la nostra regione rispetto alle altre, quindi nella scelta del turista noi vogliamo dare un impulso al nostro bellissimo territorio, quindi è una legge che valorizza i nostri beni, la nostra alimentazione, il viver sano che c'è in Abruzzo e quindi vogliamo riscoprire le nostre tradizioni. Sicuramente è una legge importante che oggi presenteremo uno dei primi eventi che va a concretizzare questa iniziativa perché molte volte si lanciano delle idee che però rimangono un po' aleatorie, invece con questo evento diamo attuazione a questi principi enunciati in questa legge. Monti, mare, campagna e cortile, i capisaldi su cui si declineranno gli assaggi culinari che saranno proposti e che si potranno degustare in occasione della manifestazione ideata in attuazione del progetto Abruzzo Regione del Benessere in collaborazione con l'associazione culturale e gastronomica Porta Romana Bella. Chi parteciperà a questa fiera avrà modo di conoscere buona parte delle aziende che producono prodotti bio che oggi si sa per il mercato è determinante, ma soprattutto questa iniziativa nasce da parte della regione nella persona dell'assessore Pietro Quaresimale per promuovere quello che è un grande risultato della regione Abruzzo, che è risultata la quinta regione al mondo per la qualità della vita e allora non si è persa occasione appunto di poter organizzare eventi laddove tutte le aziende che producono prodotti di qualità, prodotti bio, avranno modo di esibire i loro prodotti qui a Porta Romana. Quindi cosa si assaggerà? Le tematiche sono quattro, il cortile attraverso il tacchino canzanese, poi c'è l'orto, c'è la montagna e c'è il mare. Avremo l'opportunità di ospitare i pescatori, la cooperativa dei pescatori di Martinsicuro, avremo a disposizione anche una piccola lampara dove si potrà parlare con i pescatori e il loro metodo di pesca del pesce azzurro. Prestigiosi partner della prima fiera Mercato del Benessere, l'Art Abruzzo e l'Università di Teramo. Adesso apriamo la pagina di Sport, ovviamente Serie C, ha archiviato il pareggio di domenica contro la Vispesaro per 2-2 e torna in campo la Serie C per il secondo turno di Coppa Italia. L'Adriatico Cornacchia questa sera alle 20.30 in campo della Pescara che affronta il grosseto Biancazzurri che ad agosto avevano sconfitto, vedete nelle immagini, sempre tra le mura amiche l'Olbia e che in caso di qualificazione potrebbero scontrarsi col Teramo qualora i biancorossi facessero lo stesso con il Siena domani. Spazio a chi ha giocato meno finora in Casa Delfino con il tecnico Gaetano Auteri che potrebbe proporre tra i pali Sorrentino al posto di Di Gennaro con Ingrosso e Ianes che partiranno dall'inizio per mettere minuti nelle gambe dopo essere stati out nelle prime uscite di campionato. A centrocampo ci sarà anche Valdifiori con Rizzo, mentre Marilungo, Rauti e Galano dovrebbero formare il triente avanzato anche se al centro dell'attacco l'ex Palermo in ballottaggio con Franco Ferrari. Nei mare mani 4-3-1-2 con la coppia De Silvestro Scaffidi davanti e Ghisolfi alle loro spalle. Fischio d'inizio alle ore 20.30, arbitra Taricone della sezione di Perugia, gara secca, chi vinceva al prossimo turno previsto a novembre. In caso di parità ovviamente tempi supplementari e poi eventualmente calci di rigore. Restiamo a parlare di Serie C di Coppa Italia perché dopo averlo affrontato dieci giorni fa in campionato il Siena torna sulla strada del Teramo domani alle 15 al Bonolis. Spazio anche in questo caso da alcuni giocatori che hanno visto meno il campo. Birligea sarà titolare davanti, Agostino invece andrà tra i pali al posto di Tozzo. Non convocato Chiere Mateng per questa sfida che il tecnico Biancorosso Guidi non vuole sottovalutare. Noi non stiamo preparando un'ottica vispesa, noi stiamo preparando un'ottica Siena perché è una partita come vanno preparate tutte perché se no rischeremo di dare un messaggio sbagliato a tutti quanti e soprattutto di sbagliare e di non portare in campo quella che deve essere la nostra mentalità. Noi è un impegno a tutti gli effetti e noi giocheremo con lo stesso tipo di mentalità che avete visto queste prime uscite. Per noi non esistono né amichevoli né partite di seconda importanza o di prioritaria importanza. Tutte le partite hanno la stessa valenza che giocherà e per chi giocherà è un'opportunità importante per farsi vedere e soprattutto per dare un senso ai sacrifici e agli sforzi che sta facendo dall'inizio della stagione. Per quanto riguarda i giocatori che potranno essere utilizzati è chiaro che le mie valutazioni sono fatte e saranno figlie della condizione di ognuno di loro perché tre partite in una settimana per forza di cose se le vogliamo tenere in intensità alte è impossibile riuscire a farle con gli stessi interpreti e quindi sarà per me la formazione migliore per provare a battere il sien. Chiaramente noi abbiamo valutato lo sforzo che c'è stato nell'impegno di domenica con il Modena perché ci sono anche dei calciatori che hanno avuto uno sforzo veramente notevole sia come eventi di potenza ma come anche come volume di gioco ed è chiaro che sollecitarli in questo momento della stagione a una partita ogni tre giorni dopo che non hanno ancora metabolizzato le scorie della partita precedente rischierei poi di fargli arrivare degli infortuni che assolutamente è un rischio che non dobbiamo prendere. Detto questo ci saranno anche coloro che invece hanno assorbito i carichi della partita di Modena e che quindi saranno riproposti in campo tranquillamente ma proprio perché noi non sdoppiamo l'avversario per me è una partita importante e voglio vedere da parte di tutto il massimo impegno anche perché coloro che domani magari sbaglieranno la prestazione oppure non saranno calati mentalmente su quello che è il nostro impegno è chiaro che nelle mie gerarchie resteranno di è quindi per i calciatori è una grande opportunità per quelli che hanno avuto meno minutaggio. Gli altri devono far vedere la stessa mentalità che hanno mostrato nei tre impegni di campionato. Scendiamo in una serie di adesso protagonista assoluto della scorsa stagione del Pineto. Matteo Minnozzi sarà ancora uno dei punti di forza della squadra allenata da Marco Pomante che domenica debutta in campionato in casa nello scontro tutto abruzzese col Castelnuovo. Innanzitutto sono molto contento di essere rimasto per stare con la squadra e per aver creduto tutti in me. Non vedo l'ora di iniziare il campionato e di dare il mio contributo a tutti. Obiettivi importanti sia per te che per la squadra quest'anno? Noi abbiamo degli obiettivi importanti e li vogliamo raggiungere a tutti i costi lavorando sodo giorno dopo giorno e spero che ce la faremo. Sicuramente perché venivo da una piazza di Tolentino poi ho avuto dei problemi e Pineto ha creduto in me, infatti li ringrazio fortemente e sono stato contento del campionato passato, ma come dice sempre il mister del passato e il passato ora c'è da dimostrare di nuovo quest'anno che è ancora più importante di quello prima. Sì, ho fatto 16 gol, sono contento, lo ripeto, sono contento di quello che ho fatto e spero di fare altrettanto meglio quest'anno. Il girone è sicuramente difficile come tutti gli anni, quest'anno è un po' particolare perché non si sa che squadre mettono o non mettono, però noi siamo concentrati su noi stessi, pensiamo a fare il nostro e a fine anno tireremo una linea. Sì, noi partiremo forte, non guardiamo in faccia nessuno e derby o non derby, l'importante è fare risultati positivi. Ma è stata sicuramente una bella soddisfazione vincere i play-off, soprattutto che qua a Pineto non avevamo mai vinti, speriamo di riconfermarci e se capita con un derby perché no. La romana Maria Caciotti a vincere nella categoria femminile la prima edizione del Triathlon città di Giulianova, manifestazione che si è svolta sabato sul lungomarezzano. La vincitrice Maria Caciotti, Cesena Triathlon, l'Abruzzo ti porta molto bene perché avevi vinto anche al Fedena a fine giugno. Sì, abbiamo presidiato anche in questa gara organizzata dagli stessi organizzatori, intanto perché siamo affezionati all'Abruzzo e al posto e luogo che siamo stati in vacanza qualche anno fa e è comunque ottima l'organizzazione delle gare, davvero complimenti. Sappiamo che la tua stagione è ancora lunga perché stai preparando eventi importanti. Sì, questa è una gara in preparazione di un mezzo Ironman in Sardegno il 24 ottobre e quindi siamo nel pieno delle gare di di carico. Come è andata oggi? Ti abbiamo visto uscire in buona forma dal nuoto, hai consolidato con il ciclismo e con la corsa. Non c'è stato grande problema anche se le avversarie vanno tutte rispettate sempre. Certamente, tutte le avversarie vanno rispettate. Nonostante eravamo poche donne ho cercato di dare il meglio della mia prestazione. Il nuoto non ci sono state grandi difficoltà, anzi il mare ci ha aiutati a rientrare, molto scenica anche l'uscita così un po' all'Australiana. Il percorso in bici è stato un po' insidioso per via della no scia con i ragazzi, quindi sono stata sempre sulla sinistra e avevo paura dei dossi, però ho mantenuto bene la posizione. Prima edizione del TG6 che si conclude qui. Tra poco i servizi che avete visto saranno disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it oltre che sulle nostre pagine social. Nuovo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 19. Grazie per la cortesa attenzione e buon proseguimento. Grazie a tutti.